Si è riservata di fare una segnalazione per una particolare opera letteraria che ci ha colpito per la veste grafica e l'opera è Nazareth del gruppo Eter e Emanuela ci legge la motivazione di questa segnalazione. Le immagini di Arkham, la sua poesia, il suo modo di invertire la prospettiva tra protagonista del dipinto ed osservatore accompagnano e scandiscono un viaggio nel villaggio di Nazareth tra gesti semplici ed emozioni genuine che tratteggiano una storia che parte da Iosef, Miriam e Jesu e che risulta significativa per milioni di persone ancora oggi. La segnalazione vuole porre l'accento sulla cura del prodotto editoriale, sull'uscito equilibrio tra parola e immagine, sulla cura con cui, pur nel ridotto formato, le opere d'arte sono state riprodotte. Grazie. Grazie. Grazie.